Oggi mi ha fatto veramente ridere leggere questo post da parte di Larry Fink su Bitcoin ragazzi voi dovete capire che chi come me veterano nell'ecritto veramente da tanti tanti anni leggere un post del genere è come, cioè capito, c'è l'esplosione capito ci hanno maltrattato, ci hanno fatto di tutto annaggiano mi tengo Batman ragazzi, me lo tengo per me allora Larry Fink fa mea culpa e ribadisce è l'oro digitale, ora che ti conviene Larry numero uno di BlackRock ammette a CNBC che la mia opinione di 5 anni fa era sbagliata e riconosce che Bitcoin è uno strumento legittimo che permette di avere ritorni non correlati che è proprio la chiave veramente importante di Bitcoin ed è quella che ovviamente una super investitore, super professionista come Larry tiene in considerazione ritorni non correlati agli altri mercati, agli altri asset bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ho voluto iniziare con questa chicca piccolina che però ragazzi veramente mi ha fatto sorridere e allora la dedico a tutti quelli che come me da 2015 più o meno stanno dentro questa roba e si sono sentiti dire che eravamo cialtroni, truffoni, buffoni, tutto con la uoni qualsiasi cosa vi viene in mente buttate, anzi nei commenti ragazzi tutte le frasi con la uoni buttatele dentro nei commenti vabbè ciao Larry sei venuto tra di noi speriamo che non fai scompiglio ma secondo me un po' scompiglio lo stai già facendo vabbè allora non eravamo noi dal lato sbagliato era lui dal lato sbagliato detto questo ragazzi oggi parliamo della questione ho tre grafici da mostrarvi anzi quattro diciamo così una parte, prima parte del video parliamo della questione bitcoin e dei ETF di bitcoin sta andando tutto come previsto per quanto riguarda questo rialzo ancora siamo in un limbo manca qualche giorno per schiarire una piccola incertezza ciclica di cui parleremo nella prossima settimana nel nostro consueto video in lunedì quando parliamo di analisi ciclica però fra qualche giorno sarà anche quella diciamo sottolineata dal mercato indipendente dalla strada che prende il mercato poi ho dei grafici relativi agli ETF da farvi vedere importantissimi e poi soprattutto tre ma dico tre e lo ripeto tre grafici sulla questione alt season e criptovalute altcoin non bitcoin e sono tutte e tre grafici importanti soprattutto uno ad un livello di analisi tecnica importantissimo ma anche con una forza ciclica che potrebbe perché no dare il là quella che tanto stiamo aspettando ormai da tanti mesi di cui abbiamo parlato per un intero anno anzi di più perché eravamo insomma veramente sì più o meno insomma marzo o maggio dell'anno scorso di cui parlavamo di questa cosa allora iniziamo soprattutto con la questione legata a questi dati dati degli ETF di bitcoin che sono cresciuti nuovamente mentre stavano vendendo tutti gli investitori retail per quanto riguarda la questione di anti-gox tutti hanno comprato sembrerebbe tra le altre cose se non erro che circa il dovrebbe essere il 65% dei bitcoin di mongox dovrebbero essere stati già in pratica venduti e in questo caso tutta quella fase di bassista dovrebbe essere stata acquistata dagli investitori istituzionali quindi un passaggio di mani dagli investitori istituzionali ai investitori retail questo dovrebbe essere stato proprio la questione del ribasso che abbiamo visto su bitcoin allora notizia importante intanto il raggiungimento dei 16 miliardi di controvalore in dollari da parte di bitcoin ma in realtà se noi li valutiamo in bitcoin che secondo me ha molto più concetto siamo a 892 mila bitcoin quasi un milione di bitcoin ecco potremmo dire detenuti dagli etf e soprattutto riguardiamo anche il lato dell'inversione di trend quando gli etf hanno ripreso un flusso di acquisto che è notevole per esempio quello che si può vedere in questo grafico che adesso mi mostro eccolo qui allora questo lato qui è già dal giugno in realtà che c'è è iniziata questa fase di accumulazione se guardiamo da dove è iniziata la fase di accumulazione il prezzo di bitcoin era a 60 mila dollari ma guardatelo anche sul grafico come si fa l'accumulazione ragazzi non si fa sui minimi guardate quando inizia non inizia mai sui minimi poi ovviamente in questa fase i minimi vengono citati anche da una impennata di acquisti ma nei giorni successivi ai minimi gli acquisti scendono per poi riprendere quando il mercato dà un segnale positivo cioè da qui a qui stanno accumulando questo è anche significativo del fatto che quando si va a innescare una struttura di accumulazione di capitale non lo si fa all'interno di un unico prezzo ma in un'area di prezzo imparate da queste cose anche un altro concetto vale anche per i trader vale anche per gli investitori quando si investe non si investe nei mercati che crollano si investe nei mercati che hanno dato segnali di arrivo ad un determinato livello e lo si fa in un'area temporale non in un unico momento quantomeno quando le cifre sono consistenti per esempio in questa fase qui dove i mercati avevano iniziato a scendere gli ETF hanno continuato diciamo a vendere probabilmente sapevano delle notizie legate alla questione di MTGOX e hanno aspettato hanno detto fate prima vendere gli MTGOX i bitcoin di MTGOX a tutti i creditori o almeno la maggior parte fate scendere il prezzo e poi noi ricominciamo a comprare se io so che sta arrivando un flusso di offerta non metto la mia il mio capitale subito in quel mercato attendo un po' ma quel po' non è fino al minimo perché neanche gli investitori istituzionali conoscono il minimo bensì fino a un prezzo adeguato poi da lì inizio ad accumulare anche se il mercato poi fa delle piccole discese ulteriori io continuo la mia fase di accumulazione quindi un prezzo medio poi detenuto dai investitori istituzionali bene anche per quanto riguarda questi grafici legati agli ETF di bitcoin che si stanno dimostrando ancora una volta in indicatori validi per quanto riguarda la ripresa del mercato questo ciclo di bitcoin è un nuovo ciclo mensile senza ombra di dubbio ed è anche probabilmente un nuovo ciclo trimestrale che durano di solito 70-80 giorni però per questo serve la prossima settimana dobbiamo ancora ragionare su una questione e ne parliamo nella prossima settimana oggi invece andiamo a ragionare sulla questione legata alle altcoin dove siamo? a che punto siamo con le altcoin? stiamo aspettando l'alt season è già da un po' di tempo che vi dico che tra giugno e luglio potevano essere degli ottimi periodi di chiusura di questa fase a dire la verità precedentemente mi aspettavo potesse farlo prima questa fase di chiusura cioè nella zona di aprile però fallito quel tentativo la successiva area di prezzo era quella qui in mezzo l'area temporale scusate qui tra in pratica giugno e poi luglio e c'è ancora una fascia temporale che mi porta ad avere un po' di indecisione però questo grafico lo vediamo tra un po' prima volevo iniziare dal grafico di Bitcoin di Ethereum contro Bitcoin e poi mostrarvi anche un altro grafico quello della dominanza di Bitcoin allora intanto alt season si alt season no sta per iniziare sicuramente ora i tempi sono maturi e senza ombra di dubbio potrebbe essere un momento propizio però c'è anche da dire che ancora il dato relativo al trend delle altcoin rispetto a Bitcoin non è mutato e che soprattutto guardando quelle che sono le top cap come ETH si rimane in un limbo questo limbo di Ethereum nonostante la questione ETF si preveda che vengono approvati entro fine di luglio è rimasto attivo da 49 giorni circa quasi due mesi diciamo così in cui non c'è stato movimento ma neanche la ripresa del trend ribassista precedente che era quello che abbiamo visto in questa zona qui teoricamente la sua naturale evoluzione sarebbe questo ma per avere un trend del genere dobbiamo ipotizzare un fallimento dell'ETF Ethereum quantomeno in termini di volumi e di acquisti su Ethereum spot quantomeno nelle prime due settimane 20 giorni perché questo perché questo trend così pronunciato che si chiama un'altra gamba ribassista dovrebbe arrivare fino a settembre inoltrato perciò ipotizziamo che tutto agosto e anche settembre dovremmo assistere ad un incremento di prezzo di bitcoin maggiore rispetto a quello di ETH questo è l'unico dubbio che ancora resta ovviamente siamo a cavallo con invece il segnale opposto cioè il segnale di inversione di questo trend che dovrebbe avvenire intanto dal breakout delle due medie mobili che come vedete fungono da resistenza in questo momento e queste due medie sono la medie calcolate sul grafico settimanale quindi sono la 26 e la 52 perché le utilizzo come semestrale e annuale di questo grafico se riescirà a fare un'impennata del genere a rompere questo livello e poi avvicinarsi a 0,061 allora attenzione perché indicherebbe che qui può essere iniziato un nuovo ciclo completamente diverso di ETH rispetto a bitcoin ed è quello che veramente cambierà le sorti di Ethereum degli ultimi anni perché lo ripeto e ribadisco da circa tre anni bitcoin Ethereum non ha nessun valore aggiunto in termini di speculazione di rendimento rispetto a bitcoin perciò essendo un asset più volatile di bitcoin e non avendo una trend crescente rispetto a bitcoin non ha motivo di essere tenuto in holding e neanche di essere diciamo di essere utilizzato ovviamente sono tre anni che intendo essere utilizzato in termini di investimento non per il protocollo chiaramente ETH che è tutto un altro discorso completamente diverso però in termini di investimento secondo me ha sofferto molto questo trend ribassista questa fase potrebbe anche essere indicativa del punto in cui ci troviamo nella questione dell'alt season e se infatti andiamo a guardare anche quella che è la dominance di bitcoin qui è la dominance modificata del ticker dominance con tolte diciamo le total market cap di DAI tether e osdc quindi tolte le stablecoin tra le altre cose ragazzi nel canale telegram che vi lascio in descrizione in tutti i video trovate anche questo ticker che ho fatto un posto l'ho messo anche nei post su pinnati dove ci sono questi ticker e i modi in cui si creano questi ticker su tradingview quindi trovate lì oltre a tutte le news che vengono pubblicate ovviamente ogni giorno sul blog di tradingon.it questa fase della dominance di bitcoin dice tantissimo ragazzi tantissimo il primo dato è quello che il nuovo ciclo annuale di questa dominance iniziato nel 2024 è già ampiamente sviluppato si è sviluppato e ha circa 189 190 giorni di sviluppo ma non ha fatto grandi massimi in pratica è come se qui assistessimo una specie di rotazione della dominance di bitcoin intanto dobbiamo renderci conto che verso maggio del prossimo anno questa dominance dovrebbe andare in chiusura ciclica annuale e questo significherebbe che in questa zona temporale dovremmo iniziare ad assistere da settembre a troppo in pro ad una incrementata forza delle altcoin rispetto a bitcoin ma soprattutto di ethereum rispetto a bitcoin ethereum solana e bnb e insomma lì dovremmo renderci conto anche di questa di questa roba perché da ottobre in poi settembre ottobre in poi questa cosa dovrebbe girare in questo senso e poi c'è da dire che questa resistenza fa da tappo ed è evidente il 60% sta facendo da tappo diversa è la questione e se da qui ancora bitcoin dovesse spingere nei prossimi mesi ha tutte le carte in regola per andare ancora qui fino a quando fino appunto come vi dicevo a ottobre del 2024 quindi ancora in questo lasso temporale la possibilità di avere un espluà su ethereum c'è ancora poi parliamo qui del 5% sull'intero mercato quindi su ethereum un guadagnare un 10-15% in pratica configurerebbe una struttura ribassista che andrebbe a chiudere quindi fa una cosa del genere chiude questo ciclo che è naturale e sulla dominance dovrebbe tentare lo sfondamento dei 60% per avvicinarsi alla zona di 65% prima di andare a chiudere questo ciclo allora questi grafici sono correlati perciò monitoriamoli entrambi perché hanno una grande valenza e ci dicono da una parte che ethereum inizia ad essere più resistente rispetto al crash che ha avuto negli anni scorsi sempre su bitcoin ne parliamo dall'altra però ancora i tempi nella dominance lo vediamo sono non del tutto maturi quindi ancora c'è un lasso di 90 giorni 60 giorni in cui poter assistere ad una fase di debolezza ancora una volta di eth e delle top altcoin rispetto a bitcoin è possibile quindi siamo vicini alla scadenza ma non del tutto arrivati questi prossimi 60 giorni 90 giorni teneteli ovviamente sotto stretta osservazione diverso il concetto se guardiamo la singola altcoin quelle più piccole da 300 milioni 500 milioni perché non rientrano in questi grafici non li vediamo è talmente diversificato che l'impatto di quella singola altcoin su bitcoin non è visibile in questi grafici per vedere quella altcoin stessa bisognerà creare il grafico altcoin contro bitcoin quindi non so per dire avax contro bitcoin in modo tale da vedere i trend che si stanno andando a disegnare passiamo all'ultimo grafico di oggi che è quello più importante che è il terzo grafico che ci dà l'idea di dove siamo e a che punto siamo con la questione altseason qui abbiamo visto che ancora non c'è un segnale netto da parte di ethereum e qui abbiamo visto che ancora possiamo arrivare fino a ottobre tranquillamente con ancora forza di bitcoin quindi altseason in stand by anche se non del tutto spenta almeno sulle top qui invece guardiamo il grafico escluse le top perché qui abbiamo l'esclusione anche di ethereum e di bitcoin quindi qui sono in prevalenza c'è molto le top crypto senza ethereum quindi bnb solana ton eccetera in questa zona qui però abbiamo assistito nelle scorse settimane ad un recupero importante perché questo recupero che è pari dai minimi toccati al 37,7% e lo so tantissimo ma le crypto altcoin hanno volatilità di questo tipo sancisce la possibilità ma non ancora la certezza perché manca ancora qualche settimana un paio di settimane per saperlo che qui sia possa essere iniziato un nuovo annuale il nuovo annuale delle altcoin che dovrebbe lanciare la vera altseason almeno la prima parte della vera altseason perché poi la seconda parte avverrebbe dopo però questo dovrebbe essere se sarà confermato e vi ripeto serve qualche settimana un paio di settimane almeno potrebbe indicare che sta iniziando la nuova altseason attenzione che se qualcuno di voi pensa che nell'altseason prossima che verrà vuol dire che tutte le crypto andranno in gain io non la vedo così secondo me le migliori crypto andranno in gain quelle come fate a trovarle intanto dovete studiarvi i progetti eccetera per comprendere quali hanno grandi potenzialità ma dal punto di vista di investimento la cosa principale resta controllare il trend della singola criptovaluta contro bitcoin come vi dico praticamente da 4 anni perché anche se il progetto è il più bello del mondo la tokenomics è la più bella del mondo a fini di natura speculativa quello che conta resta comunque il trend perché un progetto con una tokenomics spettacolare con un'idea spettacolare potrebbe non avere nessuna pilla di marketing il mercato non lo guarda bene e quindi fa sì che non salirà mai di prezzo capito oppure può succedere qualsiasi cosa eccetera perciò da quel punto di vista è essenziale comprendere che il trend della cripto in questione contro bitcoin prima che contro usd è la cosa principale che dovete controllare è la prima di ogni cosa viene quello poi il resto volete farlo potete anche evitarlo il resto però dovete essere iper bravi nel trading altrimenti poi controllate anche che cosa state andando a comprare eccetera perché solo il trend va bene per uno screening ma poi giusto capire anche che cosa c'è dietro e i rischi connessi è importante andarlo a conoscere questa zona quindi di inizio possibile inizio di un nuovo annuale è importante ma soprattutto c'è un segnale di analisi tecnica che non va per niente sottovalutato cioè il punto d'arrivo alla trendline discendente di questo canale discendente che è quello che ha contribuito a farvi vedere queste ribassi imponenti che da marzo sono scaturiti nel settore delle altcoin cioè quelli che in pratica dall'11 marzo abbiamo visto il trend discendente delle altcoin che a molti è sembrato un disastro in realtà se lo vedete è diversificato su tante altcoin non soltanto su quelle che sono ciofeche colossali scusate il termine non è per niente un disastro perché il trend è rimasto puramente rialzista ed ha fatto una specie di pullback tra le altre cose senza arrivare neanche al livello di pullback che era questo qui da 300 billion in sostanza è stata una gamba di uno swing di ritracciamento di un trend che sembra rialzista ora la rottura di questo livello da un punto di vista di analisi tecnica porta il successivo livello di resistenza essere molto importante perché poi dopo la rottura di questo canale si andrebbe a confluire intorno ai 580 billion che diventa la vera resistenza rotta quella secondo me è all'ordine del giorno assistere a una nuova gamba di questo tipo ed è un classico abc da manuale di analisi tecnica fino al raggiungimento dei massimi storici della total market cap delle crypto escluso bitcoin escluso ethereum e questo configurerebbe l'inizio sicuramente di un nuovo annuale e di una nuova struttura ciclica ma anche la possibilità con grande tranquillità di assistere a questa alt season già abbiamo visto la mini alt season da novembre questa dovrebbe essere più pronunciata se effettivamente avverrà ancora il segnale non è avvenuto ma io ovviamente il video lo faccio prima così potete constatare e andare a controllare anche questo tipo di segnale qui c'è una resistenza da battere ma la successiva ricordatevi è in questa aria qui aria che va presa in considerazione ed è tutta questa fascia da 540 billion 580 billion questa zona qui è la successiva ed è la vera vera resistenza perché questa è una resistenza dinamica questa è la statica ed è molto più importante di questa qui però monitoriamo tutte e due questa è anticipatoria molto più rischiosa questa invece è molto più importante ma è anche molto più in lano e quindi meno ghiotta da un punto di vista di prezzi detto questo fatemi sapere cosa state facendo voi con le altcoin e soprattutto quali vi piacciono di più buttatemi nei commenti così nella prossima settimana faremo teniamo giù magari una live dove parliamo come sempre solo e esclusivamente di altcoin ciao a tutti